130 cantieri in tutta la città tra strade, giardini, piste ciclabili e scuole, 10 associazioni sportive aderenti, oltre 4.000 partecipanti previsti tra cittadini, dipendenti comunali, associazioni, alunni, genitori e insegnanti. Tutti pronti con guanti, sacchi e pettorine per rendere la città ancora più pulita, ordinata e abbellita. Torna sabato 20 aprile, dalle 9 alle 13, l'appuntamento delle pulizie di primavera a Monza, un'occasione da sempre sentita dai cittadini per prendersi cura dei luoghi della comunità. Significa davvero esprimere il grande amore per la città da parte di cittadini e cittadine che parteciperanno, quest'anno sono più di 4.000, per noi è una grandissima soddisfazione e diciamo che continuiamo a portare i nostri obiettivi sempre un po' più in alto. Ed è bellissimo perché ci permette di prenderci cura della città che è uno degli slogan che noi utilizziamo. Un'attività che come viene da sempre sottolineato non sostituisce quella prevista dal lavoro ordinario di mantenimento del decoro urbano, ma diventa occasione per comprendere il senso civico della responsabilità nella cura della propria città. È un'occasione di condivisione fra cittadini, istituzioni, sponsor, imprese che poi non si limitano magari solamente a sponsorizzare, ma addirittura vengono con il loro personale. È una situazione di condivisione che diventa coltivazione del senso di appartenenza, orgoglio per quello che si è fatto per la propria città, gusto per il miglioramento della stessa, che non dura solo le 4, 5, 6 ore in cui si lavora assieme, dura poi per sempre, perché chiunque fra di noi abbia fatto qualcosa di buono, quando ci ritorna su lo sente come proprio. Sul sito del Comune di Monza è ancora possibile iscriversi per partecipare con tutto il materiale necessario che sarà fornito dall'amministrazione comunale. Al termine degli interventi saranno posizionate in ogni luogo ripulito le foto del gruppo che si è preso cura del cantiere, con l'invito a rispettarlo e a mantenerlo in ordine. Mi raccomando, partecipate al contest fotografico, mandateci le vostre foto.